C'è abbastanza perfidia, odio, violenza, assurdità nell'essere umano medio per fornire qualsiasi esercito in qualsiasi giorno, e i migliori assassini sono quelli che predicano contro, e i migliori a odiare sono quelli che predicano amore, e i migliori in guerra in definitiva sono quelli che predicano pace. Quelli che predicano Dio hanno bisogno di Dio, quelli che predicano pace non hanno pace, quelli che predicano amore non hanno amore. Attenti ai predicatori, attenti ai sapienti, attenti a quelli che leggono sempre libri, attenti a quelli che o detestano la povertà o ne sono orgogliosi, attenti a quelli pronti a elogiare perché hanno loro bisogno di elogi. Attenti a quelli pronti a censurare, hanno paura di quello che non sanno, attenti a quelli che cercano continuamente la folla, da soli non sono nessuno. Attenti agli uomini comuni, alle donne comuni, attenti al loro amore, il loro è un amore comune che mira alla mediocrità, ma c'è il genio nel loro odio, c'è abbastanza genio nel loro odio per ucciderti, per uccidere chiunque. Non volendo la solitudine, non concependo la solitudine, cercheranno di distruggere tutto ciò che si differenzia da loro stessi. Non sapendo creare arte, non capiranno l'arte. Considereranno il loro fallimento come creatori solo come un fallimento del mondo. Non essendo in grado di amare pienamente, crederanno il tuo amore incompleto e poi odieranno a te. E il loro odio sarà perfetto, come un diamante splendente, come un coltello, come una montagna, come una tigre, come cicuta, la loro arte più raffinata.